Buonasera a tutti, in realtà gli argomenti di cui potremmo parlare sono moltissimi ma il tempo voglio dire cerchiamo di sintetizzarli e quindi io come si dice entrerei direttamente in media stress perché noi lo accennavamo prima nelle relazioni che abbiamo fatto, siamo qua per parlare di cinema sperimentale, cinema d'avanguardia, è stata fatta anche, è stata tentata anche diciamo così una di ricapitolare, di riassumere quali potrebbero essere le differenze tra avanguardia e sperimentazione che noi abbiamo spesso usato io per primo come sinonimi nelle fasi delle relazioni all'inizio del workshop, naturalmente concentrandoci e partendo dal dato cinematografico, dall'impresa cinematografica e Emilio Isgro è il regista di un film unico nella storia del cinema italiano, nel panorama dell'arte, della videoarte italiana perché è un film che si intitola La Iena più ne ha più ne vuole che in realtà non esiste ma è come se esistesse cioè viene, se ne parla come se esistesse tant'è che ne accennavamo anche quando ci siamo incontrati nel suo studio ci sono stati addirittura dei siti internet su questo film, che ne parlavano come se appunto fosse realmente esistito e invece maestro il film non c'è. Il film non c'è per un fatto molto semplice, era difficilissimo produrlo e come al solito le difficoltà produttive dell'epoca sconsigliarono di farlo. Quando il film non si fece, dirò perché non si fece, io tirai un sospiro di sollievo perché se avessi dovuto farlo veramente mancavano le tecnologie. Si potrebbe fare oggi e non è detto che io non lo faccia con lo stesso titolo, saprei oggi come farlo. Però il fatto che se ne sia tanto parlato deriva dal fatto che il film si è praticamente autocancellato. Che cosa è la cancellatura? Almeno quando io la uso sulla scrittura, sull'immagine. è un'interruzione della comunicazione in un mondo, in una società, ed era già così in quegli anni, dove a forza di comunicare, la comunicazione è degenerata nella chiacchiera e degenerando nella chiacchiera fa perdere quell'aspetto legato alla riflessione che gli uomini devono portare sempre con sé se non vogliono scadere in visioni della vita un po' troppo facili e forse non sempre raccomandabili. Ecco, il cinema si prestava a tutto questo perché già costituiva il fondamento di una società mediatica che adesso si è sviluppata in altre forme e appunto in forme che non lascia spazio alla riflessione e secondo me neppure alla politica e alla cultura. Questo perché è accaduto? E' accaduto perché evidentemente un assetto mondiale fondato è su una comunicazione non sempre più suggestiva che è capace di portare questo, vediamo sui computer, certo se la tecnologia giovò molto alla musica degli anni 60, le nuove tecnologie, conosco molto bene quel periodo perché ho conosciuto Nono, ho conosciuto Stokhausen, li ho conosciuti un po' tutti. Oggi quelle nuove tecnologie servono ad alterare addirittura, non tanto la verità dei fatti perché la verità si sa che è sempre opinabile, ma la stessa autenticità umana. Cioè un artista come ogni uomo c'è un mal di testa deve poterlo dire senza che questo porti conseguenze politiche. Invece adesso evidentemente accadde anche... Non è più così, d'altra parte io devo dire una cosa che pur comprendendo benissimo le situazioni che una scelta politica ha creato, non credo che la colpa sia tutta dei politici, la colpa è anche della cultura e della cultura che non ha saputo rinnovarsi dagli anni 60, 70 a oggi perché certamente il rapporto con il pop è importantissimo. Io infatti non volevo fare un film per pochi, volevo fare un film per molti e si sarebbe pure fatto perché c'era che mi seguiva, ero io che non ero in grado di farlo perché le tecnologie non bastavano. Quando ci incontrammo con Brebbia... Che doveva essere il direttore della fotografia diciamo. Lui doveva essere il direttore della fotografia, me lo fecero conoscere due amici di Varese che si chiamavano Luciano Giaccari e sua moglie e lui si buttò nell'impresa con molto entusiasmo. Ricordo che a un certo punto dovevamo girare una scena nei provini dove l'attrice doveva mostrarsi parzialmente nuda. Il nudo a quel tempo faceva ancora impressione nonostante i tempi fossero avanzati. Scusate, devo parlare a voi, non al mio interlocutore, chiedo scusa. A questo punto la censura, la cancellatura paradossalmente funzionava come censura. In anni recenti qualcuno si è chiesto se cancellatura, se cancellare e censurare sono la stessa cosa. Io direi di no, perché in effetti la cancellatura è una forma di omeopatia nei confronti dei censori. Tutto qui. È un controveleno. Cancello io perché non mi cancelli tu. È questa la morale. Posso chiedere però di che cosa avrebbe trattato il film? Diciamo che la protagonista doveva essere Paola Pitagora, che all'epoca era un'attrice anche impegnata politicamente. Certamente, era molto impegnata. E poi subentrò anche Viernalisi. Conobbe Viernalisi con il marito architetto a Roma. Il film doveva essere un film all'americano, un colossal, che parlava della guerra del Vietnam, ambientato in Vietnam. La mia idea era di girarlo davvero e poi cancellarlo. Sarebbe stato molto più semplice prenderno uno già fatto e cancellarlo. Costa meno e magari sarebbe molto più efficace. E' questo che potrei fare, avanti. Perché i costi sarebbero chiaramente minori. E non è detto che il risultato non sia suggestivo, come io ce l'ho in mente. Quindi mi sento stimolato a farlo. Anche perché ognuno mi chiede, ma quel film è cancellato, perché non lo fai? E devo dire questo, che allora ci fu anche una ragione per cui il film saltò. Io ricordo che il giornale, anche il Daily Mirror, mi telefonò un amico da Nairobi che aveva visto la prima... Me che giravo il film con Brebbia, facevo i provini, in prima pagina. Sì, o qui la riproduzione si vede... Ah no, c'è dietro. E ricordo che mi telefonarono anche dal Sudafrica per avere notizie. Se ne parlava un po' dappertutto. E' diventata una leggenda. Ma la ragione vera che ci diede il colpo di grazia, per cui alla fine non lo giravamo, era che i produttori avevano paura, perché dice, ma noi non siamo in grado di finanziare un'operazione del genere. E intanto il Corriere della Sera, tutti i giornali ne parlavano tutti i giorni. Io davo per scontato che si facesse, perché non pensavo alle difficoltà reali. Senonché il giorno che dovevamo cominciare le riprese, saltò la Banca Nazionale dell'Agricoltura. E a quel punto il film si era cancellato da solo, restò solo una piccola G della parola strage in una mia opera, che io voglio di salvaguardare. Quindi il film è meglio che non si sia fatto. Teoricamente certo poneva sul piano teorico molti problemi. Tant'è vero che ha fruttificato, credo che poi molti artisti, hanno ripreso la tematica della cancellazione cinematografica, magari con esiti interessanti. Se io lo facessi oggi, lo faccio con il linguaggio d'allora o con il linguaggio di oggi? Con le cose che sapevo allora o con le cose che so oggi? A questo punto vorrei dire anche una cosa, che fra avanguardia e sperimentazione il taglio non è così netto, perché le arti sperimentali hanno avuto sempre un aspetto provocatorio. Prendiamo l'esempio, dadaismo e futurismo. Il futurismo chiaramente tende a comunicare, quindi per comunicare deve sperimentare nuovi linguaggi. alzare, aprire l'area della ricerca. Il dadaismo, che molti per lungo tempo hanno considerato un'arte più separata e aristocratica rispetto al futurismo marinettiano, tende appunto ad appartarsi. Stiamo in pochi che siamo i più bravi, quelli che capiscono, è l'ipotesi di lavoro di Champiana, poi che è anche per certi aspetti ereditata dai surrealisti di Breton. Quindi è difficile dare un taglio netto tra avanguardia e sperimentazione. Anzi, a questo proposito, allora fu fatta molta confusione negli anni Sessanta, nel senso che la sperimentazione avanguardia furono un po' assegnate al cosiddetto gruppo Sessantatré, che in effetti, con tutto il rispetto per certi poeti, che hanno fatto belle opere, però opere memorabili ne ha lasciate poche, come il futurismo letterario. In pittura il futurismo ha fatto di più. Però il primo che parlò di sperimentalismo fu un poeta che le avanguardie istituzionali, chiamiamolo così, consideravano la loro bestia nera, ed era Pasolini. Fu lui che per la prima volta parlò di sperimentalismo. Io, personalmente, pur essendo stato considerato un artista d'avanguardia, le avanguardie non le amo, devo dirlo. Non le ho mai amate e veramente capisco che non le va a vedere, non le segue. Senta, ci dica, noi ne abbiamo parlato prima, azzardando l'ipotesi che chi faceva questo tipo di ricerca, chiamiamola così, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, non facesse distinzione tra macchina da presa, cioè tra cinema e arte figurativa o altri linguaggi. Era così? Sì, in parte era così. La grande cultura del Novecento è nata dal fatto anche che gli artisti si parlavano tra loro. cioè non si era semplicemente pittorio, scrittorio, musiciste. Si era tutto questo insieme. Ed è chiaro che il cinema chiamava una convergenza di più discipline, di più linguaggi. il fatto che il poeta fosse in grado di guardare un quadro se non di farlo, addirittura, o un musicista di progettare uno spettacolo in toto, significava che gli artisti si parlavano tra loro e ogni indisciplina rinforzava l'altra. Per questo gli artisti sembravano tutti rinascimentali, perché facevano convergere nello stesso linguaggio ciò che avevano imparato lavorando da soli o dai loro colleghi. Questa contiguità tra le indiscipline ha reso memorabile il Novecento. Si imparavano tante cose, un po' come una sorta di rinascimento. Il crollo comincia quando entrano in ballo i mercanti americani o anglosassoni che sono specialisti della specializzazione. Allora il pittore doveva pittare a meno che non fosse utile per il mercato che non pittasse e fingesse di fare anche il cineasta. Il poeta doveva scrivere libri, si perde in una specializzazione feroce la capacità sperimentale su più linguaggi, altro che sperimentali. Con questo viene dato un taglionetto alla ricerca ed è per questo che adesso anche l'arte migliore degli Stati Uniti che intendiamo c'è stato un'arte importante comincia a declinare e interessa sempre meno. Intanto perché si sono aperti nuovi paesi alla ricerca artistica e l'anonimato americano che Andy Warl pensava di poter riscattare assegnando un quarto d'ora di celebrità a tutti gli uomini si traduce nell'esito delle ultime presidenziali americane che sono effettivamente il trionfo dell'anonimato portato al potere. Questo è interessante mi domando però se non si possa considerare l'artista degli anni zero che viene diciamo così da questo processo di estrema specializzazione che magari aveva altre cause e altri tra virgolette committenti meno preparato di quello novecentesco. E questo ho detto io cioè la specializzazione porta a un impoverimento culturale ora l'artista fino a un certo punto deve essere fresco e capace di meravigliarsi davanti al mondo e anche davanti al proprio lavoro a volte perché se un artista non prova un minimo di malessere davanti a quello che fa vuol dire che il lavoro che fa è un lavoro prevedibile di routine quindi il primo a provare sconcerto davanti al proprio lavoro deve essere l'artista ma se tutto è prevedibile nel senso che non c'è più comunicazione culturale si sterilisce l'arte l'arte mondiale oggi è sterile questo voglio dire va bene per i ricchi del pianeta ma i ricchi del pianeta vanno educati come un tempo andavano educati poveri adesso abbiamo questo problema chi glielo insegna agli scecchi come si guarda un quadro facciamo le scuole serali cioè c'è molta incompetenza d'altra parte i veri leader anche politici si distinguono dalla qualità delle persone dalle quali si circondano e dalla capacità anche di accettare il fatto che queste persone a volte sono scomode Pericle Euripide non gliele mandava a dire i grandi tragici greci Pericle però accettava capiva perché l'arte del novecento e in tutti i tempi è quella che pone domande non quella che dà risposte oggi non pone più domande e dà risposte ma questo lo deve fare la politica lo deve fare la cultura anche attraverso le domande che gli vengono poste dalla società l'arte nell'accezione più alta anche politica l'arte politica indipendentemente dai partiti è un'altissima forma di politica l'arte non fa più domande e non facendo più domande la società è in buona parte ferma almeno in occidente Ma secondo lei e con questo direi concludiamo concludiamo tornando al tema iniziale ma secondo lei all'interno di questo scenario che lei ha definito anche sterile quindi forte come c'è ancora spazio per la sperimentazione in qualunque campo soprattutto quello artistico però oggi penso che l'arte è la punta di diamante delle possibilità che la cultura offre più della scienza e della filosofia se lei guarda gli anni passati i grandi romanzi venivano scritti da filologi o da filosofi come Umberto Eco questo la dice lunga eccellente filosofo ma la poesia la devono fare i poeti non la devono fare i filosofi per quanto grandi per quanto importanti questo la dice lunga abbiamo passato anni in cui tutto è stato appiattito oggi siamo in crisi e il tessuto sociale capisce che la situazione è bloccata e a volte reagisce bene a volte reagisce meno bene cioè avremo siamo in viaggio avremo dei momenti noi speriamo non è come quando un aereo attraverso una tempesta speriamo di di atterrare bene ecco grazie Emilio Sgro grazie